Maria Lucia Revisore Revisore Oggi vorrei condividere con voi una riflessione sull'indipendenza finanziaria, il pirastro principale per la nostra libertà e dignità personale. Però per avere l'indipendenza finanziaria occorre per forza avere una buona educazione finanziaria. L'educazione finanziaria non si esprime nella nostra capacità di pagare le spese ogni mese. L'educazione finanziaria si esprime nella capacità di gestire il proprio denaro, di conoscere almeno a livello basiliare i mercati finanziari e l'economia, insomma l'andamento dell'economia, ma soprattutto come l'andamento di questi ultimi possa impattare, in qualche modo, le nostre finanze personali. L'indipendenza finanziaria, invece, significa tante cose, ma soprattutto, per me, significa libertà. Libertà di essere il padrone del proprio destino, libertà che tante persone non apprezzano tanto. La finanza e le notizie economico-finanziarie non sono esclusivamente riservati ai ricchi, ai grandi, ai uomini. La finanza riguarda tutti noi presenti qui, che siano uomini e donne, e sottolineo donne, perché cercherò di spiegarvelo. Questo grafico di Eurostat, l'ufficio di statistica dell'Unione Europea, ci mostra le aspettative di vita delle donne all'interno dell'UE. Ovviamente mi sono soffermata sull'Italia, perché siamo in Italia, e quindi, come potete vedere, le aspettative di vita di una donna è tra 85, 84 e mezzo, 85 anni. Cinque anni e mezzo di più rispetto alle aspettative di vita di un uomo. Ma perché vi dico questo? Vi racconto la storia di mia nonna, mia nonna Angelina, che ha dovuto affrontare delle sfide incredibili e delle difficoltà economico-finanziarie in seguito alla prematura scomparsa di mio nonno Swillen. Nel corso della loro vita di coppia mio nonno era quello che si è sempre occupato, diciamo, delle finanze della famiglia, quello che portava, tra virgolette, il pane a casa, mentre mia nonna, come immagino tante donne in quell'epoca, si era dedicata al lavoro importante di essere mamma. Quindi, in un momento, il destino decide di stravolgerti la vita, nel modo più brutto possibile, con la scomparsa, appunto, di mio nonno. Mia nonna, Angelina, si trovò in una situazione in cui doveva gestire le finanze dell'intera famiglia, in una situazione in cui tutte le persone, a partire dal commercialista, a partire dal businessman con cui ha lavorato il mio nonno durante la sua lunga carriera, a partire dai figli, dagli avvocati, e tutti chiedevano proprio a lei cosa facciamo, qual è il prossimo passo che dobbiamo intraprendere, su questo punto come ci siamo posizionati. E lei, oggettivamente, da un punto in bianco, si è trovata in una situazione che non poteva gestire, perché non aveva gli strumenti giusti per farlo. La storia di mia nonna non ha un happy ending, nonostante il fatto che lei abbia cercato, naturalmente, poi successivamente, di affidarsi a persone competenti, a persone in grado di gestire questa situazione. Ma nel mentre, come vi stavo dicendo, sono accadute tante cose, e soprattutto delle grandi perdite finanziarie per la nostra famiglia, per il semplice fatto che qualcuno doveva prendere delle decisioni, e questo qualcuno non aveva le basi per farlo. Ma secondo voi, mia nonna è l'unica persona che rischia, o meglio, che ha rischiato di trovarsi in questa situazione? Vi faccio vedere questo grafico. In blu sono i criteri, ovviamente, su cui è stato fatto questo sondaggio di Banca d'Italia, quindi la massima istituzione, sull'alfabetizzazione finanziaria degli italiani, degli adulti, ovviamente, in Italia. I punteggi, come potete vedere, vanno dallo 0 a 20. Allora, c'è anche una buona notizia. È un report che si fa ogni tre anni, e il numero nel 2023 è cresciuto al 10,7%, o meglio, 10,7 punti rispetto ai 10,2 punti di tre anni fa. Quindi, insomma, una notizia positiva c'è, perché comunque l'alfabetizzazione finanziaria è leggermente migliorata. Però non c'è bisogno che vi dica che, insomma, la situazione è abbastanza critica, perché il passaggio da 10,7 a 20 è davvero enorme. Tra l'altro, l'Italia riguardo l'alfabetizzazione finanziaria tra i paesi Ocse è all'ultimo posto. La storia di mia nonna mi ha fatto imparare tante cose, ancora da piccola. Essere sempre pronti per il worst case scenario, ovvero lo scenario peggiore. Quello che ti riserva la vita, quello per cui non sei stato pronto, e quello che non hai pianificato. Ma soprattutto mi ha insegnato che il lavoro dei uomini non è solo degli uomini, ma riguarda anche le donne. Quindi, informarsi, essere in grado di gestire le finanze di una famiglia, che ripeto, non significa solo pagare le spese, è fondamentale per ogni donna e per ogni giovane. Io, come giornalista economico-finanziario, sento il dovere di diffondere questo tipo di informazione. Lo faccio praticamente quotidianamente. Quello che abbiamo notato è che la stra-larga maggioranza del seguito è composto di uomini. Ed ecco perché faccio questo appello anche nei confronti delle donne, ma soprattutto anche nei confronti dei giovani. e spero che la storia di mia nonna possa essere un aiuto, insomma, una lezione per tutti voi. Per appassionare le persone di questi temi, che oggettivamente a volte vengono percepite come un po' noiosi, difficilmente masticabili, giustamente, ci vuole un po' di impegno, lo confesso. A tratti anche poco simpatici, noiosi, però ci si può appassionare basandoci su dei role model, ovvero le persone che per noi possano essere in qualche modo un esempio, un'ispirazione. Persone che o in qualche modo hanno affrontato delle difficoltà finanziarie che sono poi successivamente state superate, o altrimenti sono talmente bravi che per noi sono semplicemente un'ispirazione. Vi faccio vedere due signori. Siccome vengo nel mondo della finanza, non potevo che non scegliere due uomini della finanza. Poi vi spiego anche perché ho scelto loro due. Li avete riconosciuti? Sì? Sento un sì molto basso. Sono Warren Buffett e il suo amico compagno di vita Charlie Munger, scomparso purtroppo a novembre 2023 all'età di cent'anni. Tutti e due è ispirazione per tutti gli investitori piccoli e grandi. Non solo per quello che hanno raggiunto nella loro vita nonostante le origini molto modeste e soprattutto, ripeto, sono l'esempio di Wall Street a New York, ma loro non si sono mai spostati dall'Omaha in Nebraska e soprattutto Warren Buffett continua a vivere nella sua casa di 23 mila dollari da 50 anni fa. Perché ho scelto loro? Perché hanno dei consigli stile di vita molto molto pratici per tutti. Buffett ha sempre detto Il migliore investimento che potete fare è investire in se stessi e qui colgo l'occasione di invitarvi di investire in se stessi, perché la conoscenza è un investimento che ci ripaga sempre, presto o tardi. Un'altra frase di Buffett, che mi piace tanto, è focalizzarsi sempre sui nostri obiettivi, sulle cose che contano, il resto è poco rilevante. Ma soprattutto, un suo consiglio per le spese personali, per le finanze personali, mai spendere più di quello che si guadagna. Quanti di voi lo fanno? Già vedo parecchie persone, mi fa piacere. Vorrei condividere con voi anche un passaggio di Charlie Munger, che non c'è più. Per tutti gli investitori, ripeto, piccoli e grandi, Munger ha sempre detto Bisogna investire sempre in società che si conosce bene. Perché, se uno non conosce il modello di business di una società, non può capire oggettivamente quando è il momento di disinvestire e soprattutto perché. Questi sono i role model di tutti gli investitori, sia a breve termine che di lungo termine. Il mio role model è stato, ovviamente, mia nonna, perché mi ha aiutato a capire che nella vita bisogna essere sempre preparati anche per le circostanze più avverse possibili. Prima di lasciarci, però, volevo invitarvi, al di là del fatto naturalmente di informarsi, perché se in passato l'informazione economico-finanziaria era difficilmente reperibile, oggi non è così. L'informazione è ovunque, è sui social, è sui giornali, è in tv, è sull'internet. Quindi non ci sono scuse. Il primo consiglio che vorrei darvi da portare a casa oggi, possibilmente, è imparare sempre dai propri errori e dagli errori degli altri. E spero che l'errore di mia nonna possa esservi stato d'aiuto. Il secondo consiglio è essere resilienti e adattarsi alle situazioni slash circostanze avverse. Se sia sui mercati, è fondamentale essere resilienti a livello di mindset. Mai agire sull'emotività, mai agire basandosi sulla paura, perché questo comporta errori, e non solo sui mercati, anche nella vita. L'ultimo, ma non per l'importanza, è affrontare le sfide come opportunità per la nostra crescita personale. Me ne rendo conto che quando ci sentiamo che il mondo, come se il mondo ci cascasse addosso, è difficile avere questo mindset, è difficile rimanere positivi. Però bisogna trovare la forza interiore di combattere con quella unica persona con cui bisogna combattere, che siamo noi stessi. Grazie.